Musica Strategie aree interne con la programmazione 2021-2027 Sette fondi per le aree interne, Caldoro promotore della strategia, stoppa i campanilismi, serve unità Agropoli intascava la pensione dalla madre deceduta nel 2013, sequestrati beni per 67 mila euro, sospeso il reddito di cittadinanza Auletta, case popolari, canoni non pagati, il comune affida la riscossione a terzi Padula, violenza sulle donne, sabato scorso il seminario formativo promosso in collaborazione con il Sole 24 Ore Atena Lucana Scalo, venerdì 15 novembre, Francesco Renga presenta il suo ultimo album, L'altra metà Buonasera, ben trovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News In apertura parliamo di strategie delle aree interne perché la nuova programmazione per la ripartizione dei fondi 2021-2027 Prevede anche una parte destinata esclusivamente alle aree che risultano essere inserite nelle strategie per le aree interne Un'opportunità che per Stefano Caldoro che all'epoca della sua presidenza la regione campania aveva fortemente voluto inserire anche il Vallo di Diano Tra le aree su cui investire nel programma va sfruttata ma serve l'unità del territorio Vediamo Strategie aree interne è un'occasione che richiede la collaborazione, l'unità e l'abbattimento di qualsiasi forma di campanilismo per poter raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle aree marginali che si prefigge il progetto Per Stefano Caldoro, sostenitore di strategie aree interne che ha fortemente voluto la presentazione di un progetto come area pilota anche per il Vallo di Diano Durante il periodo in cui copriva il ruolo di Presidente della regione campania, sostenendone peraltro anche la realizzazione sono questi gli elementi essenziali intorno al quale creare una strategia efficace e capace di intercettare anche i nuovi fondi che arriveranno direttamente dall'Europa Per Caldoro, capogruppo di opposizione e consiglio regionale, strategie delle aree interne riveste un ruolo determinante per arrestare anche il fenomeno dello spopolamento Io ho voluto, devo dire con il Ministro Barca allora, con Fabrizio Barca, fortemente questa politica di riequilibrio nel nostro territorio che vedeva chiaramente le aree interne spesso soffrire, perché gran parte degli investimenti, sia di carattere privato, sia di carattere pubblico erano quasi sempre indirizzate alle aree più forti, le aree più forti sono le aree metropolitane e le cosiddette aree costiere quindi era necessario non solo parlare, parlare, parlare su delle aree interne che poi invece rischiavano come è noto quindi lo spopolamento, la desertificazione industriale e quindi vivevano in un momento di crisi profonda abbiamo deciso di prendere una parte dei finanziamenti nazionali ed europei destinati solo alle politiche delle aree interne e devo dire, questa nostra idea, che è partita sperimentale, come lei sa, e ha davuto in Campania la individuazione delle prime aree Irpinia, per esempio la parte cilentara interna, il baladigliano cioè alcune aree che erano le aree che siamo pilota in tutta Italia, soprattutto nelle nostre regioni quelle che le ho indicato, erano le aree sulle quali bisognava partire per fare questi investimenti la buona notizia è che ormai questa politica delle aree interne è stata consolidata nei programmi europei quindi oggi i programmi europei, anche per la futura programmazione, si prevederanno misure dirette solo ai comuni che fanno parte delle aree interne quindi che cosa posso sollecitare? è una grande occasione, ci vuole maturità, ci vuole volontà dei comuni, delle amministrazioni comunali della comunità locale, dell'impresa locale, del mondo dell'impresa, del mondo della sanità pubblica della sanità privata, della scuola, dell'istruzione, di fare rete, di uscire fuori dal campanile di pensarla come un gioco di squadra e soprattutto di prendere le decisioni con rapidità perché chi è più bravo avrà più finanziamenti quindi questa è una scommessa e chiaramente è tutta in mano alla comunità locale La cronaca continuava a percepire la pensione della madre nonostante fosse deceduta nel 2013 inoltre aveva anche chiesto ed ottenuto la concessione del reddito di cittadinanza una donna di Agropoli è stata denunciata dalla Guardia di Finanza che ha anche disposto il sequestro dei beni In tasca per anni la pensione della defunta madre e non contenta chiede e ottiene anche il reddito di cittadinanza denunciata due volte una 56enne di Agropoli a carico della quale i finanzieri della locale compagnia diretta dal capitano Ciro Sannino su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per circa 67.000 euro con l'accusa di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato Secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri cilentani pur non avendone diritto la donna ha continuato a incassare la pensione di 1.200 euro al mese della madre deceduta nel 2013 approfittando del fatto che nessun funzionario dell'anagrafe avesse mai effettuato la comunicazione di avvenuto decesso agli uffici INPS La somma veniva accreditata su un conto corrente cointestato con la compianta madre per un ammontare di 67.000 euro Non soddisfatta dell'auto assegno mensile incassato illecitamente la donna aveva chiesto e ottenuto anche il reddito di cittadinanza per un importo di 260 euro mensili Pertanto è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e per lei è scattato il sequestro di un'automobile e delle somme in denaro sui conti correnti Un atto vandalico è stato perpetrato ai danni di una baita comunale in legno sita in località Ruscio di Vallevona sul Monte Cervati Gignoti l'hanno devastata scardinando la porta d'ingresso e rubando anche una stufa a legno che era al suo interno hanno distrutto il cancello d'accesso all'area verde dove sono posizionate le baite per l'ospitalità in montagna un danno economico enorme per il comune ma soprattutto un atto di criminalità su cui stanno ora indagando i carabinieri sconcerto e rabbia tra la comunità per l'ennesimo atto vandalico sul Monte Cervati Andiamo avanti, parliamo del SAD Ecodiano anche il comune di San Rufo ha recentemente approvato la costituzione del subambito distrettuale Ecodiano Vediamo Il subambito distrettuale Ecodiano registra una nuova adesione di recente ha deliberato il comune di San Rufo approvandone la costituzione a conferma della volontà già manifestata nel dicembre del 2016 Il SAD Ecodiano nascerà all'interno del lato Salerno per una gestione ottimale dei rifiuti a livello comprensoriale vede coinvolti in teoria 15 enti di fatto hanno formalmente approvato l'iniziativa oltre a San Rufo, Casalbuono, Pertosa e Teggiano mentre i primi a farlo nel corso della scorsa estate furono Polla, Monte San Giacomo e Sant'Arsenio Decisero subito dopo la prima riunione tenutasi a Salerno presso la sede della provincia alla presenza del presidente dell'ende d'ambito Giovanni Coscia L'incontro vide i sindaci del Vallo di Diano quasi tutti presenti ribadire la volontà di costituirsi in SAD Tra i comuni che ancora non hanno deliberato vi è Atena Lucana che lo scorso settembre ha portato l'argomento in Consiglio Comunale e su proposta della minoranza ha deciso all'unanimità di rinviare la discussione a data da destinarsi E' dunque tra i comuni che ha discusso l'eventualità di entrare nella rete che sta nascendo ma non ha ancora assunto una decisione definitiva le perplessità riguardano la costituzione dell'organismo che va detto non è ancora chiaro da chi sarà gestito e poi le troppe differenze tra i vari enti coinvolti in termini di risultati nella raccolta differenziata Il subambito distrettuale rappresenta per i sindaci che convintamente vi stanno aderendo una modalità per un migliore svolgimento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti in un'ottica di ottimizzazione del ciclo e in vista della realizzazione nell'ambito del comprensorio di un impianto di compostaggio dimensionato per le esigenze locali e demandato poi alla comunità montana Vallodidiano di procedere alla costituzione del nuovo organismo Il comune di Auletta ha deciso di procedere contro i morosi delle case popolari assegnando ad una società la gamma tributi SRL la riscossione dei canoni non pagati Assicurare diritti e doveri in egual misura almeno è in quanto dicono di impegnarsi dal comune di Auletta che ha deciso di muoversi contro i morosi delle case popolari assegnando ad una società la gamma tributi SRL la riscossione dei canoni non pagati e l'ultimo step di un percorso di controllo in materia di edilizia residenziale pubblica l'iter era già stato avviato nel 2015 con diversi solleciti Il periodo di inadempienze è riferito agli anni dal 2010 al 2015 l'ente retto da Pietro Pessolano è proprietario di 35 alloggi in cui vivono altrettante famiglie Nell'ultimo riscontro effettuato è emerso che 17 assegnatari risultano morosi per un ammontare complessivo di circa 45 mila euro L'amministrazione ha più volte tentato di recuperare le morosità mediante avvisi formali a tutti coloro che non risultavano in regola con i pagamenti e va detto la situazione negli anni è migliorata considerando che al 2015 erano 28 gli inadempienti Di sicuro tra i fattori che avranno influito sulla condizione di morosità via la crisi economica che ha significato un progressivo impoverimento delle famiglie ed è un aspetto che va tenuto in considerazione sempre L'iniziativa, sottolineano dal Comune rientra nelle politiche necessarie a garantire una corretta gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e a preservare la funzione sociale delle case popolari L'impegno assicurano e sempre a tutela di chi fruisce degli alloggi ma anche a garanzie di legalità Mancano gli immobili nella disponibilità del Comune di Auletta e ad oggi le famiglie in attesa sono una ventina Dovrebbe avere inizio il 28 novembre denanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il processo penale che vede coinvolti tra gli altri diversi ex amministratori del Comune di Camerota nell'ambito dell'inchiesta Camarathon per molteplici ipotesi di reato a danno della pubblica amministrazione i consiglieri comunali Francesco Calicchio e José Rafael Saturno componenti del gruppo misto consigliare propongono al Comune di costituirsi parte civile nel procedimento penale Dovere di questa amministrazione si legge nella nota fermi restando in ogni caso l'accertamento dei fatti e la presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva affermare e ribadire la cultura e lo spirito della legalità e della lotta la corruzione ai valori cui deve essere ispirata ogni azione pubblica anche in considerazione dell'incidenza negativa dei fenomeni criminali sul tessuto socio-economico della realtà locale Cambiamo argomento andiamo a Padula seminario formativo sabato scorso per discutere sul tema della violenza sulle donne un tema delicato su cui spesso ci si interroga per individuare le azioni più adeguate da mettere in campo al fine anche di evitare che casi di femminicidio da parte dei partner delle donne possano continuare a ripetersi un tema che è stato affrontato nel corso dell'incontro dedicato al titolo non chiamatelo amore perduto realizzato in collaborazione con il Sole 24 Ore proprio perché spesso il titolo del convegno è stato scelto perché molto spesso le donne non sono capaci di recepire il pericolo nella convinzione che la violenza stessa possa terminare fiduciose nel rapporto con il proprio partner durante il seminario svoltosi presso la sala conferenze della Certosa di San Lorenzo a Padula il tema della violenza di genere è stato analizzato in ogni sua parte grazie anche alla presenza di esperti relatori durante l'incontro è emersa anche l'importanza del contesto sociale in cui si vive un contesto che riserva un ruolo fondamentale alle comunità e alle associazioni chiamate a collaborare attivamente con le forze dell'ordine per riuscire anche a prevenire ed evitare la violenza ma ascoltiamo le interviste realizzate sabato mattina a Padula quello che lega tantissimi casi è appunto questa prevedibilità del fenomeno una cosa estremamente grave che molti autori del delitto hanno sempre dato segnali di violenza addirittura in molti casi anche con la stessa partner un altro aspetto principale è anche l'efferatezza vatti si registra a livello comportamentale il fenomeno dell'overkilling che è l'accanimento sul corpo della vittima che a livello simbolico significa ti uccido ma significa anche ti amo in questa visione distorta che qualcuno chiama amore malato assolutamente un termine che non va declamato non va nomenclato perché l'amore rende liberi l'amore il sentimento universale e tutte queste violenze con l'amore vero e proprio assolutamente non c'entrano nulla dobbiamo intervenire a livello sociale soprattutto attraverso la prevenzione e anche noi cittadini i cittadini cosiddetti non impegnati in questo ambito devono assolutamente allertarsi e non bisogna in nessun caso far finta di nulla perché nel silenzio chi giustifica la violenza ne è complice il nostro compito in ausilio del pubblico ministero piuttosto che in perizia del giudice è quello di ricercare eventuali tracce organiche sulla vittima e o sull'aggressore in maniera tale da estrapolare i profili genetici e compararli poi con i profili di riferimento al fine di giungere ad una verità scientifica il più possibile vicino alla realtà del fatto accaduto se si arriva purtroppo all'uccisione all'omicidio della vittima stessa e si può applicare durante lo studio della scena crimini si può applicare una tecnica particolare che è quella della BPA che studia la conformazione e la disposizione delle tracce matiche sulla scena proprio anche per ipotizzare qual è stata la dinamica le posizioni relative alla vittima e all'aggressore i movimenti la tipologia di arma utilizzata quindi questo può essere anche un fattore investigativo per gli inquirenti da poter insomma sfruttare in quelle purtroppo in quelle condizioni noi da sempre siamo un istituto che nasce vicino al territorio e vicino alle comunità che lo vivono ma soprattutto un istituto che è munito di, uso questa espressione di un circolo culturale di un'associazione Montepruno Giovani di una fondazione è un istituto che si occupa non solo appunto di tematiche prettamente bancarie ma anche di questioni di carattere culturale e sociale che comunque sono legate al territorio in cui noi operiamo e quindi diciamo l'argomento oggetto di questo incontro è un argomento molto importante un argomento quello dello stalking del femminicidio e della violenza di genere questioni importanti sulle quali sicuramente nel corso degli ultimi 10-15 anni è stato fatto tanto prima il comandante provinciale dei Carabinieri evidenziava come è stato colmato un vuoto normativo importante che oggi assicura maggiore tutela alle potenziali vittime evidenziava l'importanza appunto del ruolo delle associazioni che presenti sul territorio vanno a integrare anche il ruolo delle forze dell'ordine e in un certo qual modo hanno un importante ruolo proprio per tutelare delle persone e delle parti potenzialmente deboli nuovo appuntamento formativo ad Atena Lucana Scalo promosso dall'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina presso l'auditorio Mattilio Cirillo di Atena Lucana Scalo grazie al contributo di esperti in materia saranno analizzate nel dettaglio le novità introdotte nella riforma del terzo settore con la normativa vigente i lavori che si apriranno alle ore 14.30 con i saluti del presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina Nunzio Ritorto e del sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci che ospita l'evento proseguiranno poi con la relazione sul tema affidata a Ernesto Gatta commercialista rappresentante per l'Italia del Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili presso la Federazione Europea dei commercialisti la partecipazione al convegno consentirà il riconoscimento di 4 crediti formativi nell'ambito del programma di formazione professionale continua andiamo a Capaccio Pestum un altro esemplare di delfino senza vita la carcassa è stata rinvenuta ieri mattina all'alba sulle spiagge di Capaccio Pestum la carcassa di un cetaceo morto è stata rinvenuta ieri mattina sul litorale Cossiero di Capaccio Pestum in località Focesele nei pressi dell'ex villaggio Merola si tratta con molta probabilità di un esemplare femmina di stenella di circa due metri spiaggiatosi a seguito delle forti mareggiate della notte simile nell'aspetto ad un delfino la stenella è un piccolo cetaceo dal corpo snello e slanciato che arriva nell'adulto a misurare 2,5 metri la principale caratteristica distintiva è la presenza ai lati del corpo di evidenti linee di demarcazione che separano nettamente il dorso di colore scuro e i fianchi grigio chiaro dal ventre bianco o rosato gli occhi sono contornati da una macchia nera di dimensione variabile dietro la quale si staglia una sottile linea scura la pinna dorsale può essere eccezionalmente alta rispetto alle dimensioni del corpo dell'animale ghiotta di pesci mollusche e crostaci la stanella può immergersi fino a 200 metri di profondità alla ricerca del cibo preferito restando in apnea per circa 10 minuti e ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro Tg mercoledì prossimo 13 novembre a Padula Scalo presso la sala parrocchiale della chiesa di Sant'Alfonso si terrà un nuovo appuntamento finalizzato alla presentazione del nuovo sito web Città-Vallo dedicato proprio al Vallo di Diano sarà anche un incontro nel corso del quale si potrà nuovamente parlare della costituzione del comune unico Vallo di Diano mercoledì mercoledì 13 novembre la proposta della Città-Vallo sarà al centro di un dibattito ampio, dettagliato e ricco di interventi l'appuntamento si terrà presso la sala delle conferenze della parrocchia di Sant'Alfonso a Padula Scalo l'evento sarà un'occasione per presentare il nuovo sito web in allestimento www.cittavallo.it dedicato proprio al Vallo di Diano inteso come un territorio dalle mille potenzialità e sfaccettature il quale risulta legato da un'identità condivisa il seminario di promozione moderato e coordinato dal giornalista Pietro Cusati prende il via alle ore 18 con i saluti di benvenuto di Don Vincenzo Federico parroco della chiesa di Sant'Alfonso a Padula e del sindaco Paolo Imparato a seguire prenderanno parte al dibattito Vincenzo Ferrara membro del comitato per la presentazione del sito web Cittavallo Nunzio Ritorto presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina Francesco Cavallone sindaco di Sala Consilina e Monsignor Antonio De Luca vescovo della diocesi di Teggiano Policastro l'invito è stato esteso anche agli esponenti della regione Campania ed in particolare al presidente Vincenzo De Luca al fine di ottenere risposte sulle motivazioni che impediscono di indire il referendum consultivo per richiedere il parere dei cittadini sull'istituzione o meno di un comune unico Cittavallo Anche gli adulti potrebbero avere la necessità di conoscere la lingua inglese anche per finalità professionali la Salary English for School di Trinità di Sala Consilina che si occupa di insegnare l'inglese ai bambini di età a partire dai 4 anni ha proposto sabato scorso un incontro per conoscere le opportunità invece riservate agli adulti Presso la sede della Salary English for School di Trinità di Sala Consilina sabato scorso si è tenuto un appuntamento informativo alla presenza di una referente della Cambridge School Salerno in visita presso la sede della scuola d'inglese di Sala Consilina per spiegare in cosa consistono i corsi di formazione della scuola che peraltro è direttamente collegata con la Cambridge University per corsi di studio di inglese che partendo dalle lezioni riservate più piccoli sono adeguate allo sviluppo alla crescita e alle esigenze di ciascuno La Salary English for Children di Trinità di Sala Consilina quindi attraverso l'iniziativa di sabato scorso ha voluto ampliare ulteriormente il suo impegno a favore della comunità in cui opera cercando di offrire adeguate informazioni in merito all'acquisizione della lingua inglese la cui conoscenza e giusto grado di padronanza nell'ascolto nel parlato e nello scritto sono fondamentali in ogni attività lavorativa ancora di più operando in un contesto che punta a diventare area di interesse turistico da qui l'iniziativa informativa la Salary English for Children opera in particolar modo nell'insegnamento della lingua inglese rivolte ai più piccoli a partire dai 4 anni di età attraverso l'adozione di una didattica appositamente studiata che ne riduce al massimo le difficoltà e che punta all'acquisizione della nuova lingua attraverso il gioco rendendo lo studio divertente acquisire padronanza con la lingua inglese però oggi è necessità anche per gli adulti per questa ragione la Salary English for Children sabato scorso ha promosso l'incontro per far conoscere anche agli adulti le possibilità offerte dalla Cambridge School Salerno a favore dei ragazzi e degli adulti che hanno la necessità di apprendere la lingua nell'ambito della loro attività professionale quinta edizione della manifestazione ricreativa e solidale il mantello di San Martino torna all'appuntamento anche quest'anno organizzato da eventi positivi l'associazione di promozione di promozione sociale eventi positivi festeggia l'autunno a sala consiglina con l'iniziativa il mantello di San Martino l'appuntamento è per sabato 16 novembre alle ore 20 in piazzetta Sant'Antonio per la quinta edizione della manifestazione ricreativa e solidale quella del mantello di San Martino dicono gli organizzatori è una storia che ci accompagna sin da bambini racconta il fermento del nostro territorio e a nostro avviso poteva essere declinata su un'azione politica e sociale dividere per condividere ci permette di moltiplicare le azioni e ottenere da un gesto una serie di nuove azioni e conseguenze positive con il mantello di San Martino l'associazione vivacizza un luogo della cittadina coinvolgendo la comunità dei residenti dà spazio ai talenti locali e con gesti concreti aiuta il quartiere ospitante una piccola azione da cui parte un circuito solidale significativi gli ingredienti della manifestazione innanzitutto cultura e artisti del posto e quest'anno il teatro della cantina delle arti e la compagnia Edoardo alliteranno la serata insieme alla danza popolare di Natalia Serrapede poi il cibo quello a chilometro zero fornito dai produttori locali noci castagne legumi farina un artigiano ha creato i bicchieri di coccio per il vino mentre il fuoco per riscaldare utilizza legna offerta dai cittadini del posto i fondi raccolti saranno utilizzati come ogni anno per piccoli interventi di riqualificazione del quartiere in cui si svolge la manifestazione negli anni scorsi ricordano gli organizzatori nel quartiere di San Raffaele abbiamo potuto acquistare installare in un'area con scarsa visibilità un lampione alimentato d'energia solare con fotocellula dando all'aria la luce che mancava e ancora prima abbiamo messo in sicurezza la ringhiera di corso Vittorio Emanuele e per la musica manca davvero poco al nuovo straordinario appuntamento musicale promosso da anni 60 produzioni presso il Gran Teatro Palladian Flex venerdì 15 novembre arriverà ad Atena Lucana Scalo Francesco Renga con l'altra metà tour pochi giorni ancora arriverà ad Atena Lucana Scalo Francesco Renga per presentare il suo ultimo lavoro discografico l'altra metà continuano con successo gli eventi che grazie ad anni 60 produzioni portano sul palcoscenico del Gran Teatro Palladian Flex importantissimi nomi del panorama musicale italiano dallo scorso 31 maggio anni 60 produzioni ha già portato nomi di eccezionale valore artistico musicale che hanno incantato ed emozionato il pubblico con la loro musica e la straordinaria arte dopo Massimo Ranieri con il suo sogno e son desto 400 volte che ha aperto il programma di eventi musicali lo scorso 31 maggio e la impressionante performance di Fiorella Mannoia che ha raccolto scruscianti applausi e intense emozioni con il suo personale tour in scena al Palladian Flex lo scorso 10 ottobre venerdì 15 novembre arriverà ad Atena Lucana Scalo un altro grandissimo cantautore italiano che attraverso la musica racconta la sua vita e le sue emozioni e di canzone in canzone diventa anche il racconto della vita di ciascuno emozioni sentimenti ed arte protagonisti del nuovo album di Francesco Renga che in questi mesi sta presentando in tutta Italia nelle varie tappe di l'altra metà tour tra brani inediti e grandi successi dell'artista un appuntamento che consentirà anche al pubblico del Gran Teatro Palladian Flex di trascorrere una serata indimenticabile proiettando il Vallo di Diano tra le mete di maggior interesse nel panorama musicale e per il prestigio dei concerti in realizzazione un progetto realizzabile grazie proprio ad anni 60 produzioni che ha deciso di puntare anche sul territorio valdianese sul Palladian Flex al fine di coprire una vasta aria che raggiunge anche la Basilicata e avvicinare sempre più il pubblico alla musica e grandi artisti italiani capaci di trasmettere emozioni attraverso la loro arte emozioni che venerdì prossimo 15 novembre potranno essere vissute nel Vallo di Diano e precisamente ad Atena Lucana Scalo con l'arrivo di Francesco Renga e il suo l'altra metà tour i biglietti sono in vendita sulla piattaforma Ticket One oppure GoTo Ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti.